allora è arrivato il primo pacco della big luca, lo apriamo insieme secondo libro, uno ne l'ero già tappato e poi online marketing per Mentecatti allora faccio una breve recensione perché questo corso soprattutto nella parte dei paradigmi mi ha completamente svoltato la vita sia in termini professionali che soprattutto in termini professionali nell'arco dei due mesi successivi al corso ho iniziato ad ottenere dei risultati veramente interessanti ho toccato i 17.000 euro di fatturato netto al mese, poi c'è stato il covid, ho avuto un ribasso abbastanza importante mi sto riprendendo, sto strutturando la mia società in modo importante, sono sceso poco sotto i 10.000 e quindi grazie big perché è un corso che ho già visto cinque volte, tolta la parte tecnica che comunque guarderò ed è un corso che continuerò a guardare ciclicamente quindi ogni volta che sentirò la necessità di rinfrescarmi le idee riguarderò questo corso perché ha più livelli di comprensione per cui credo che come ogni prodotto di big se lo si guarda a differenza di tempo si riescono a percepire dei dettagli, delle informazioni, si riesce a comprendere ancora meglio alcuni concetti per cui grazie big, grazie per il regalo, bellissimo